Oggi sono in zona San Donato per mostrarti il primo stato avanzamenti lavori delle allogge di via Tenivelli. Ho acquistato 5 unità abitative, sono 4 monolocali e un bilocale, per trasformarli in 3 bilocali. Andiamo a dare un'occhiata. Allora, questo è il ballatoio dove ci sono i due monolocali che è unificato e trasformato in un bilocale. Come puoi vedere da questa parte c'è il portoncino all'ingresso, da questa parte no. Mentre negli altri piani, anche a sinistra, ci sono. Quindi abbiamo chiesto l'autorizzazione all'amministratore e ci ha concesso di trasformare questa finestra in un portoncino d'ingresso. Andiamo a vedere un attimino all'interno lo stato di avanzamento lavori. Come puoi vedere il cantiere è iniziato da poco, hanno fatto la demolizione e tutto quello che era la pavimentazione. Questa è la finestra che vedevamo da fuori che verrà trasformata in portoncino d'ingresso. Naturalmente i serramenti verranno sostituiti. Da questa parte c'è un passaggio che abbiamo ripristinato nuovamente per unire i due monolocali in un bilocale. Questa è la parte che verrà utilizzata per l'angolo cottura, quindi ci sarà un ingresso su zona giorno con angolo cottura. Passiamo nella zona notte. Da questa parte ci sarà la camera. Qui creeremo un piccolo disimpegno con antibagno e bagno. Qui verrà creata la camera da letto. Abbiamo una finestra e una porta a finestra. Anche questi serramenti naturalmente verranno sostituiti. Qui c'era una canna fumaria ma non siamo riusciti a recuperarla, quindi chiuderemo questa parte. In quanto prima c'era un camino però sembra che abbiano tappato nella parte alta durante le ristrutturazioni nel corso degli anni. E quindi non possiamo utilizzare il camino. Nei prossimi giorni verrà fatto anche il battuto con la rete elettrosaldata. Quindi il cantiere sarà un pochino più pulito rispetto ad ora e proseguiremo con i lavori. Come hai potuto vedere siamo in piena fase di ristrutturazione. L'immobile che ti ho mostrato è un bilocale. È stato trasformato dall'unione di due monolocali e accanto ci sono altri due monolocali che verranno trasformati in bilocali. I due accanto in questo momento sono occupati ma già questa mattina ho ricevuto una proposta d'acquisto per entrambi le unità abitative. Siamo abbastanza vicini al mio prezzo di richiesta quindi molto probabilmente accetterò la proposta e quindi anche questa operazione di trading si concluderà prima ancora di concludere la ristrutturazione.